mi chiamo bianca ciao sono bianca la mamma mi porta a fare una passeggiata sto in un hotel con la piscina la mia bambola masha sta prendendo il sole la mamma sposta il suo lettino all'ombra così masha non si scotterà mi siedo anch'io si sta così bene wow masha misura la temperatura dell'acqua 25,8 gradi troppo fredda per me è meglio andare in spiaggia mi riposerò in macchina mamma toglimi dal sole per favore siamo in spiaggia masha deve cambiarsi la mamma può aiutarla aspetterò nel passeggino la mia paperella di gomma e la crema solare la mamma sgrida masha perché è svestita non sa cosa mettersi sembra che abbia deciso bella tuttina bella tuttina ora possiamo giocare fai una bozza per la mia paperella paperella qua qua ah 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 scava una bocca più profonda metti un secchio nella bocca nuota paperella nuota pesciolino puoi nuotare anche tu oh chi è? ah sembro io e i suoi vestiti sono come i miei chi è? perché mamma lo sta tenendo in braccio? ah è caldo la mamma mette la crema a tutti per proteggerli dal sole ok lasciamoli giocare senza di me per un po' ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao